La Vastese torna alla vittoria dopo tre mesi e dieci gare, lo fa in rimonta e grazie a un uomo della provvidenza, ovvero Alessio De Cerchio, il numero dieci in sette minuti con due perle, ribalta la gara prima all'undicesimo e poi al diciannovesimo. Nei bianco-rossi, mister Cornacchini schiera tra i pali del giudice per Baiocco e si affida un 4-4-2 con in avanti il duo Di Nardo e Chirema Teng, assente Monte Bugnoli per squalifica al suo posto, gioca Gomez. I marchigiani che vengono dalla sconfitta con il Roma City rispondono con un 4-3-1-2, subito in campo gli ex di giornata Monza e De Angelis. La squadra di Zotti non va in rete da ben sei gare. Prima dell'avvio della partita, Capitan Altobelli ha deposto un mazzo di fiori sotto la curva d'Avolos in ricordo di Cristian Salvatorelli, scomparso 19 anni fa in un incidente stradale. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla cronaca. Le due squadre partono al piccolo trotto e contratte perché la gara è particolarmente sentita. All'assesto Lavastese si affaccia timidamente dalle parti di Forconesi, lo stesso avviene al quindicesimo a parti invertite. Al trentesimo Bragaglia spende un fallo tecnico per interrompere una ripartenza e viene ammonito. Al trentaduesimo colpo di testa di De Cerchio su corner di Maiorano, palla a lato. Al quarantacinquesimo gli ospiti a sorpresa passano a segnare e per Pepai, bravo ad avventarsi su un pallone vagante in aria dopo una rispinta di Del Giudice su una precedente conclusione. La sfera impatta sul palo interno e finisce in rete. Si va a riposo con il vantaggio ospite. Nella ripresa subito pericolosi i marchigiani con Marini, Del Giudice blocca in due tempi il diagonale del numero 7. Cornacchini alla quinto prova a mischiare le carte, fuori Nacce dentro Busetto che va da giri dietro le due punte. All'ottavo Di Nardo recupera la sfera e serve Altobelli che di professione fa il difensore. La sua conclusione va alle stelle. All'undicesimo Lavastese perviene al pareggio. De Cerchio disegna una parabola con il destro che si infila sotto il 7. Fa 1-1 al tredicesimo, ci prova Busetto da fuori a giro. Conclusione debole centrale. Alla quindicesimo si rivede il Montegiorgio. Per Pepai tenta di piazzarla da palla proveniente da punizione. Tutto facile per Del Giudice. Alla diciassettesimo ancora Marchigiani, colpo di testa di Monza. Palla di poco a lato. Alla diciannovesimo De Cerchio sale in cattedra e replica la perla di 7 minuti prima. Ma questa volta sul palo opposto il numero 10 prende la mira. E la piazza dove Forconesi non può nulla. 2-1 per i locali. Alla trentasettesimo proprio il numero 10. Non al meglio lascia il campo tra gli applausi del pubblico. E al suo posto entra Mininchillo. Alla quarantatresimo espulso Altobelli dall'arbitro. Recupero di Lecce. Vastese in dieci. Orchi viene arretrato sulla linea difensiva. Alla quarantanovesimo esce per infortunio. Tracchia ed entra in campo. Criso Vergis. Nei minuti finali Kirema Teng serve di tacco. Busetto che conclude centralmente. E questa è l'ultima occasione della gara che termina con un parapiglia generale tra le due formazioni. Con questo risultato la Vastese può continuare a sperare. Mancano cinque finali. La Vastese può farcela con lo spirito di questo secondo tempo? Assolutamente sì. La partita di oggi è finita. Già da ora dobbiamo pensare alla partita di giovedì contro l'Alba Longa. Che è una grande squadra. Un'ottima squadra. Soprattutto in fase offensiva. Andiamo lì e andiamo a fare la guerra anche lì. No, no, no. Assolutamente no. Ero stanco. Avevo speso tanto. Soprattutto il secondo tempo. Comunque corciare il terzino. Ho cambiato tre ruoli. Prima esterno. Poi seconda punta. Poi mezzala. Ho dato il 110%. Grazie a questo 110% che abbiamo dato tutti quanti. siamo riusciti a portare a termine con una bella soddisfazione. Sì, soprattutto innanzitutto li ringraziamo. Perché nonostante non abbiamo portato tanti punti di questo girone di ritorno. Però siamo sempre sull'ottica della salvezza. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo. E sono convinto al mille per mille che raggiungeremo questo obiettivo insieme a loro. Mister, una nota positiva c'è oggi. La sua squadra torna al gol. Era molto tempo che non segnavate. C'è una differenza proprio ad andare in rete dei suoi ragazzi. Sì, questo è un aspetto positivo. Ma credo anche sotto il profilo del gioco la squadra si sia ritrovata. Questo che ho detto ai ragazzi anche a fine partita. Peccato, ripeto, quei dieci minuti di blackout dove la qualità individuale della stessa ha fatto la differenza. Ripeto ancora una volta il rammarico di non aver giocato 90 minuti, ma di averne giocato solo 60 per i motivi che ho detto. Ma guarda, se dovessimo continuare a giocare in questa maniera, la mia preoccupazione non è così allarmante come me la metti tu. Perché credo che la squadra, se gioca così, con il caldo a cui andremo incontro, con una squadra giovane come ho, e vi assicuro anche molto orgogliosa, basta entrare nello spogliatore e si accorge a fine partita, vedere questi ragazzi davvero affranti per la sconfitta e la dimostrazione di grande attaccamento. Quindi non sono preoccupato. Certo, la classifica dice questo, però con un gruppo così e un modo di giocare come quello di oggi, sono molto fiducioso.